Non solo sono stati riconfermati i partecipanti che avrebbero dovuto gareggiare la scorsa settimana, ma se ne sono aggiunti anche altri. Così Franco Molinaro, delegato provinciale dell'Automobile Club Cosenza, sulla prima edizione dello slalom isoladino che si terrà il 9 e 10 dicembre prossimi a Praia Mare che coinvolgerà anche il comune di San Nicolarcella. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Almerigo e Mario De Rosa in collaborazione con l'AC Sport e l'AC Cosenza, rinviata la scorsa settimana a causa delle cattive condizioni meteorologiche, si disputerà regolarmente. Il tempo rimane sempre l'incognita, ma le condizioni non dovrebbero essere tali da impedire lo svolgimento. Infatti le piogge sono previste per domenica a partire dal pomeriggio. La gare invece dovrebbe concludersi intorno alle 14. Riconfermato anche il programma della scorsa settimana, infatti sabato 9 a partire dalle 14.30 si terranno le verifiche sportive per certificare la validità dei documenti dei piloti. Alle 15 invece inizieranno le verifiche tecniche dedicate alle vetture. Le operazioni si svolgeranno presso il complesso turistico La Mantineva di Praia Mare. La gara invece è prevista per domenica 10 a partire dalle 10.30 lungo un circuito di 2,6 km che unirà i comuni di Praia Mare e San Nicolarcella. Un appuntamento che avvicchirà il lungo ponte dell'Immacolata. Grazie. 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 Grazie.